Emanuele Couta, arrivi a Piacenza, come centrale la concorrenza non manca? Come concorrenza? Ce l'ho qua tanti concorrenti, secondo me Tenka è un bravissimo centrale, con tanta esperienza, che è Ostapenko, è un nuovo giocatore che non conosco molto bene, ma che ho sentito è veramente forte, dopo dietro di me, non dietro di me, ma con me anche a Emanuele T, che ha giocato con me a Cuneo, che ha cresciuto tantissimo, dopo penso che qua a posto di centrali è concorrenza altissima. Questa Piacenza parte con tanti obiettivi, Supercoppa, Campionato, Champions League, secondo te dove può arrivare questa squadra? Sai che non mi piace dire dove possiamo arrivare, io spero che arriviamo il più alto possibile, spero che giochiamo il nostro gioco, che giochiamo il buon pallavolo, che piace ai nostri tifosi, da lì dobbiamo partire, giocare il nostro gioco, giocare bene, andare passo per passo. Prima è Supercoppa, che adesso ci stiamo preparando e spero che finisce bene. Come ti sembra la squadra dopo queste prime settimane di allenamento e con pochissime partite ancora già giocate? È una squadra veramente, secondo me, bellissima, perché a parte di amicizia o tutte queste cose, sono trovato veramente bene, che a parte di tecnico, che ha preso Pappi, Slatano, Vermilio, e questi nomi stanno parlando da solo dopo, era squadra veramente forte. Quale può essere, secondo te, l'arma in più di Piacenza? Arma in più? Per dire questo sono qua poco tempo, ma una tanta arma è Vermilio, Pappi e Slatano, secondo me.